Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Ciao, noi siamo Mafia Drunk, Penny ha la voce e l'armonica Go! Balzano ha la batteria Lorenzo Zitoli ha il contrabbasso e io Bob Cillo, chitarra e voce Questa sera avevamo due guest molto gradite che sono Liliana Marzo e Livia Monteleone rispettivamente alla voce e alla voce e chitarra baritona con cui abbiamo avuto il piacere di condividere il palco stasera Mafia Drunk è un progetto votato alla tradizione del blues anche se ovviamente ci mettiamo il nostro contributo personale ci mettiamo del nostro, ci mettiamo i nostri brani originali e niente, spero che vi piaccia il concerto che avete sentito stasera, che vi sia piaciuto Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami